Adottare un gatto è un atto di puro amore, indipendentemente da razza, colore, sesso o età. Tuttavia alcune razze sono riuscite a distinguersi più di altre, grazie al loro carattere, caratteristiche fisiche o dimensioni. E questo è esattamente ciò di cui parleremo in questo video di Animalpidia, delle razze di gatti più famose al mondo. Da non perdere! Per il suo aspetto particolare, dolce e affabile, per il suo bel mantello e per il suo carattere nobile, il gatto persiano è una delle razze feline più popolari e apprezzate in tutto il mondo. Certo, dobbiamo essere chiari sul fatto che mantenere il suo pelo in perfetto stato richiede tempo, dato che dovremo spazzolarli ogni giorno. Se c'è una qualità che definisce questa razza di gatti è l'eleganza. Questi gatti sono tipici per i loro grandi occhi blu e il mantello, che è solitamente più caro sul corpo e più scuro alle estremità, coda, viso e orecchie. Come fatto curioso, possiamo dire che questa è una delle più antiche razze di gatti esistenti. Il gatto blu di Russia è uno dei gatti più facili da riconoscere, perché il suo pelo è corto e grigiastro e possiede dei grandi occhi verdi, inconfondibili. Tuttavia, questa razza felina non è popolare solo per la sua bellezza, ma anche per il suo carattere. Ci troviamo di fronte, infatti, ad un gatto molto affettuoso, giocoso, calmo, intelligente e leale. Ciò che attira l'attenzione del gatto Sphinx è l'assenza di peli, ed è proprio questa caratteristica che ha reso questa razza una delle più conosciute. Allo stesso modo, è un gatto che si distingue per il suo carattere dolce, delicato, socievole e affettuoso. Naturalmente, è importante notare che a causa di questa assenza del pelo, questa razza felina richiede una certa cura per evitargli problemi di pelle. L'europeo è uno dei gatti più diffusi in tutto il mondo, si caratterizza per avere un viso arrotondato e largo e perché comprende una grande varietà di colori. Così si possono trovare gatti europei tigrati, bicolore, tricolore, tartugati o di un solo colore. Sebbene questo gatto sia solitamente più indipendente rispetto ai precedenti, è anche affettuoso e molto intelligente. Il suo aspetto selvaggio e lo sguardo penetrante sono due delle caratteristiche che hanno reso il gatto siperiano uno dei più popolari. Sottolineo il suo manto abbondante e frondoso, composto da tre stati ben sviluppati, che gli permettono di sopravvivere a basse temperature. Ma notato che questa razza accetta tutti i colori di pelo ed occhi, eccetto cioccolato e viola. Con il pelo medio-lungo, compatto e forte, il ragdoll è una vera bellezza. I colori più comuni sono rosso, cioccolato, tostato o crema. Il gatto ragdoll si distingue come uno dei più docili che esistano, oltre ad essere socievole, calmo e intelligente. Questa razza felina ha guadagnato molta popolarità negli ultimi anni grazie alle sue enormi dimensioni e alla sua notevole robustezza. Un Manny Coon può pesare più di 10 kg e misurare fino a 70 cm di lunghezza. Tuttavia, le sue dimensioni e l'aspetto fisico non sono le uniche ragioni per la sua popolarità, dal momento che la Manny Coon è anche un gatto molto affettuoso e socievole. Inoltre, è uno dei pochi gatti che amano l'acqua. La particolarità del gatto dell'isola di Manny è che non ha la coda. Questo non è dovuto a un'amputazione, ma una mutazione naturale nella colonna vertebrale. È una razza felina, gentile e leale, di taglia media e dal mantello semilungo. Il gatto sacro di Birmania più comune e popolare è quello dal manto marrone scuro. Tuttavia, sono accettati anche i colori champagne, platino, blu, crema, rosso e lilla. Oltre alla sua notevole bellezza, il gatto di Birmania è uno dei più popolari grazie al suo carattere, dal momento che è uno dei gatti più socievoli, estroversi, affettuosi e giocarelloni che esistono. Non potevamo lasciare fuori da questa lista i gatti più polari e più cercati in tutto il mondo, i gatti meticci. Che si tratti di incroci delle razze precedenti o di altri, anche i meticci meritano il loro posto in questa classifica. Questi felini si distinguono per essere di diverse dimensioni i colori, con pelo corto, di media lunghezza o lungo. Alcuni sono più indipendenti, mentre altri amano la compagnia dei loro umani. Diteci, il vostro gatto è di razza o meticcio? Aggiungereste qualche altra razza alla lista? Non esitate a lasciarci il vostro commento e se ti è piaciuto il video, dacci un like e iscriviti al nostro canale. Alla prossima!